E' un mare, ma ma puceghe E' un mare, ma ma E' un mare, ma ma puceghe Perché tu l'hai sfumato di vetriciado tu E' un mare, ma E' un mare, non ne ti entico più Quinta, già qua Lo stesso tipo l'uomo E' un mare, ma ma di servizio, per favore, lasciateci per lo spazio dove i carri a voi corre, grazie, liberate la strada, signori non sciupate le strade, pregoloso, allora se non vi spostate impedite i carri nell'entrare nell'aria, ok? Quindi vi consiglio in esorto nello spostarvi, non occupate l'aria dove i carri suonano, grazie. Ricordiamo ancora ai carristi che il timer parte dall'ingresso a piazza San Martino e avranno 10 minuti a disposizione, questo per garantire a tutti la possibilità di avanzare e avere lo stesso tempo. Signori non occupate le strade per favore, state bloccando la manifestazione, intanto fa l'ingresso qui a piazza San Martino. il carro numero due, quello che state vedendo. fa l'ingresso il carro numero due, sono Campicchi, capocarro, Giancarlo Marca, domanda il carro di Sant'Antonio, Raffaele di Cimillo, da questo momento partono i 10 minuti, liberate la strada, signori! e e Grazie a tutti. 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 Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buon ringraziamento lo facciamo subito a Zerusi Fissi, Agricola Russo, Fernanda Camico, Remo Caretta, Famiglia Cianvillo, Giancarlo Capacarra, Stani Massaro, direttore artistico dei suoi antichi, Vimar, Marco Maraviglia e Tonino Catolano. E ovviamente il più grande ringraziamento oltre a tutti i suoi antichi che hanno dato una mano a fare il carro e a tutti voi che siete qui questa sera, grazie mille, salto a loro, viva Macerata Campania. Buonasera, buonasera. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.